Come entrare così in una mappa che hai sottoscritto sul workshop attraverso Team Fortress 2. Quindi in questo caso per chi sta giocando a Team Fortress e vorrebbe così entrare in una mappa che ha sottoscritto sul workshop, quindi vai direttamente sul workshop, sottoscrivi così una mappa, andiamo così, metto così questa mappa, faccio sottoscritto. Quindi la mappa si chiama vsh-facility, questa qua. Una volta fatto vado direttamente nella libreria del gioco, sfoglia i file locali, Steam Maps, Workshop, Content. Ora troviamo così la mappa che abbiamo sottoscritto. Vsh-facility, questa qua. Tasto destro sopra, fai copia. Una volta copiato così questa mappa, vai direttamente nella libreria di Steam, Steam Maps, Common, Steam Fortress 2, vai su TF, vai su Maps, ed eccola qua. E incolli, quindi tasto destro qua, e fai, incolla. Ed eccola qua, vsh-facility, questa qua. Una volta fatto non ci resta che entrare su Team Fortress. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora vai direttamente su Joker, Fortnite 2, crea un server. E andiamo così a trovare la mappa che abbiamo messo. Ed eccola qua, vsh-vacility. E fai avvia. quindi quando ti sottoscrive così una mappa te la metti in quella cartella con una serie di numeri tu prendi quel file e lo incolli nella cartella di Team Fortress 2 dove stanno le mappe del workshop 5, 4, 3, 2, 1 I will send on to them only you and